Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria, da me e dalla mia apposita canotta da guerra. Il perché di questa canottierina? Beh, insomma signori, ve lo dico subito, sto incazzato nero, ma veramente incazzato nero, ma tanto incazzato nero, perché? Beh, signori, ve lo dico io il perché, perché si tratta di una cosa accaduta, come dire, qualche ora fa, diciamo, giusto ieri. Che cosa è successo? È successo che un sottosegretario del governo italiano, ovvero sia l'onorevole Maglio Di Stefano, sottosegretario agli esteri del governo Conte, ha pubblicato un post su Facebook che ora vi leggo. L'Italia può e deve essere protagonista di una nuova stagione di multilateralismo sincero e concreto. Possiamo esserlo perché non abbiamo scheletri nell'armadio, non abbiamo una tradizione coloniale, non abbiamo, ripeto e sottolineo, non abbiamo sganciato bombe su nessuno e non abbiamo messo il cappio al collo di nessuna economia. Siamo l'Italia e siamo italiani, popolo abituato a farsi rispettare per la qualità delle nostre merci e delle nostre azioni. I risultati si vedono nell'ottima rete di amicizie che il presidente Giuseppe Conte sta intessendo a livello internazionale nella quale spicca, di certo, la Russia. Quello che diciamo, facciamo sempre. Questo è lo stile del Movimento 5 Stelle. Avanti così. Sì, lo ha scritto. Lo ha scritto. Non abbiamo scheletri nell'armadio, non abbiamo una tradizione coloniale, non abbiamo sganciato bombe su nessuno e non abbiamo messo il cappio al collo di nessuna economia. Siamo l'Italia e siamo italiani, un popolo abituato a farsi rispettare per la qualità delle nostre merci e delle nostre azioni. Allora, io parlo poco e niente di politica attuale perché veramente se parlassi di politica attuale molto probabilmente scoprirebbe la terza, la quarta e la quinta guerra mondiale tutte assieme. Ma questa, questa veramente ve la dovevo, ve la dovevo realmente dire perché oggettivamente è una cosa come dire, veramente, veramente spaventosa. Sì, una cosa spaventosa perché un sottosegretario del governo italiano che fa un'uscita di questo tipo. Allora, tra i miei contatti ho l'onore, il piacere e la fortuna di avere tra i miei contatti Facebook il professor Fabio De Nino che è uno dei più brillanti storici militari italiani della nuova generazione. L'autore di quel bellissimo e interessantissimo libro che si intitola Fascisti sul mare. Ok? Fabio De Nino, che ha una grande abilità nell'esporre, come dire, certe considerazioni scrive che il sottosegretario agli esteri può essere definito come inconoscente che, allora, al di là del non esprimere giudizi sul contenuto politico di quanto dichiarato dal Presidente dal sottosegretario di Stefano e, cioè, come dire, qui bisogna focalizzarsi come dice anche il professor De Nino su fenomeni, neanche come il negazionismo e il revisionismo. Qui bisogna riferirsi a quello che dice Emilio Gentile quando parla di astoriologi vero sia di gente che non sa cosa sia la storia. Ok? Il livello espresso in questo posto, ci dice De Nino credo però meriti un neologismo che è quello di inconoscente nel senso che qui siamo davanti alla semplice non conoscenza la reinvenzione della storia nazionale e all'incoscienza nel fare determinate affermazioni. Secondo Di Stefano l'Italia non ha una tradizione coloniale sia mai che si sappia che siamo stati che siamo stati in Eritrea, Somalia, Libia ed Etiopia e che le ultime due sono state acquisite con guerre internazionali di grandi proporzioni mentre negli anni del fascismo il colonialismo italiano mostrò un lato brutale e razzista che trova possibili confronti solo nell'espansionismo nazista e nipponico. Tra l'altro vorrei anche ricordare una cosa a proposito di questo del nostro colonialismo c'è da ricordare che le leggi razziali a proposito degli abitanti delle colonie italiane non erano poi tanto dissimili dall'apartheid sudafricano creato negli anni 50. Pensateci signori, pensateci, va bene, va bene. Continua De Ninno che non abbiamo sganciato bombe su nessuno da storico militare Fabio De Ninno si permette di segnalare a Di Stefano che uno dei principali teorici dell'utilizzo dell'arma aerea contro la popolazione civile in chiave strategica era l'italianissimo Giulio Due e che gli italiani condussero bombardamenti indiscriminati in Etiopia 1935-1936 e questi anche con l'utilizzo di gas in Spagna 36-39 e nella seconda guerra mondiale 40-43 Non abbiamo messo il cappio al collo di nessuna economia prosegue l'amico De Ninno se non fosse che nel corso della guerra civile spagnola dal 36 al 39 pensammo di strangolare l'economia della Repubblica con un blocco navale illegale mentre l'occupazione italiana della Grecia dal 40 al 43 contribuì a una carestia che causò circa 300.000 vittime De Ninno ci dice anche che come storico non crede che la storia non fornisca lezioni per il presente ma di sicuro serve a comprendere il percorso fatto dal paese e l'inconoscenza dimostrata in questo post rende chiaro che continuiamo ad avere un grave problema con la memoria del nostro passato e il mito degli italiani brava gente cioè ripeto non abbiamo scheletri nell'armadio non abbiamo una tradizione coloniale non abbiamo sganciato bombe su nessuno e non abbiamo messo il cappio al collo di nessuna economia parole del sottosegretario agli esteri Maglio Di Stefani allora dopo aver come dire come dire dopo aver fatto questa figuraccia il Di Stefano ha cercato di metterci una pezza pezza che si è rivelata decisamente peggiore rispetto al buco perché sentite un po' che cosa ci scrive leggo i soliti commenti di chi è tanto accecato dall'ottusità da non distinguere tra episodi e tradizione coloniale abbiamo una tradizione coloniale cioè siamo come Francia e Gran Bretagna siete seri buona vita cioè allora allora lo sapete bene chi segue questo canale sa bene che non mi vergogno di mandarle a dire le cose a nessuno ma cioè ma qui è la prima volta che mi tocca redarguire un 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 sottosegretario del governo italiano cioè insomma signor sottosegretario di Stefano non è uno di Stefano cioè allora lei ha mai letto un accidente di libro di storia direi proprio di no perché perché appare evidente che lei non sappia nulla cioè tanto per dirne una come ha già spiegato l'amico De Nino Etiopia Etiopia Spagna Grecia Malta Tel Aviv cosa abbiamo fatto in quelle occasioni praticamente dal 36 al 43 l'Italia con le sue limitatissime capacità operative si lanciò in una serie di guerre in cui l'aviazione veniva vista semplicemente come arma terroristica perché quelli erano i dettami delle dottrine del bombardamento strategico elaborate dal generale italiano Giulio Due non abbiamo sganciato bombe su nessuno insomma insomma potrei fare un lungo e noioso elenco di episodi in cui la regia aeronautica italiana dal 1921 con la riconquista con l'inizio della riconquista della Libia fino al 1943 ha usato l'aeronautica come arma terroristica vede sottosegretario di Stefano la questione è semplicemente questa qua lei lo sapeva non lo sa glielo dico io spero che si fidi di me che sono un semplice appassionato di storia che si è letto qualche libro di storia di troppo cioè allora non abbiamo sganciato bombe su nessuno abbiamo sganciato bombe e ne abbiamo sganciate la nostra fortuna è che non abbiamo avuto la forza di mettere in atto quello che volevamo fare nel 1939 nel 1939 il capo di stato maggiore dell'aeronautica il generale Pricolo si vantava apertamente e lo dichiarava ai giornali che l'arma aerea italiana era pronta a seminare morte e distruzione anche e soprattutto sulle popolazioni civili perché quella era la guerra quello andava fatto e chi se ne frega della reazione della comunità internazionale è dichiarazioni del capo di stato maggiore della regia aeronautica il generale Pricolo nel 1939 poco prima dello scoppio della seconda guerra mondiale questo aveva in mente la regia aeronautica ma non poté metterlo in pratica perché le forze della regia aeronautica erano decisamente troppo deboli per poter mettere in pratica quei bellicosi e deliranti propositi che poi mettiamola così il bomber command e la e la US Army Air Force ci fecero ampiamente e dolorosamente ripagare con gli interessi ma ahimè che vi posso dire noi non abbiamo mai bombardato nessuno tipo vabbè la regia aeronautica ha partecipato al bombardamento di Guernica la regia aeronautica ha bombardato con un bombardamento dichiaratamente terroristico la città di Barcellona la regia aeronautica ha bombardato Tel Aviv ammazzando 128 bambini in una scuola la regia aeronautica non ha fatto quello che è riuscito a fare il bomber comendo o la Luftwaffe semplicemente perché non ne aveva le forze ma ne aveva la volontà perché il bombardamento terroristico lo abbiamo inventato noi italiani con il generale Giulio II caro sottosegretario di Stefano che vi devo dire? Che vi devo dire? Succede anche questo cioè per non parlare poi della nostra politica coloniale cioè la nostra politica coloniale velleitaria delirante aggressiva abbiamo seminato in Etiopia abbiamo fatto veramente qualche cosa di spaventoso l'Ambaradan la strage di Debra Libanos i pogrom ferocissimi organizzati dai fascisti dopo l'attentato a Graziani il Madamato le esecuzioni le deportazioni nel Fezzan da parte di Graziani le impiccagioni due milioni di libici e qualcosa come un un 25 o 30 mila tra impiccati tra impiccati e fucilati e quasi 200 mila persone deportate in Libia il blocco navale illegale della Repubblica Spagnola non abbiamo strangolato economicamente nessuno andatelo a dire 300 mila morti della carestia in Grecia non abbiamo non abbiamo scheletri nell'armadio contrariamente ad altri signor Di Stefano io tempo fa su questo canale ho recensito questo libro eccolo qua il professore Alberto Stramaccioni ha scritto questo libro intitolato Crimini di Guerra storia e memoria del caso italiano storia e memoria la dimostrazione di come il mito dell'italiano brava gente sia una cazzata mi si passi il termine sia una bugia autoassolutoria dovuta al fatto che il popolo italiano o chi per lui aveva bisogno di lavarsi la coscienza e di nascondere sotto il tappeto certe brutte cose ci sono opere rispetto allora il fatto è questo qua per il colonialismo italiano consiglio all'onorevole Di Stefano all'onorevole Maglio Di Stefano sottosegretario alla presidenza del consiglio sottosegretario al ministero degli esteri consiglio caldamente la lettura di un libro a caso di Angelo del Boca ok che è diciamo la massima autorità italiana in materia questo libro pubblicato da nella edizione dalla terza nelle collane economica costa 12 euro costa 12 euro adesso io lo so che il sottosegretario Di Stefano si è dimezzato la paga ma 12 euro per comperarsi questo libro 12 euro per comperarsi questo libro e perdere due giorni a leggerlo e a cercare di capirlo noi non abbiamo scheletri nell'armadio noi italiani non abbiamo scheletri nell'armadio non abbiamo scheletri nell'armadio noi non abbiamo scheletri nell'armadio italiani brava gente tipo Debra Libanos tipo le deportazioni nel Fezzan tipo il comportamento dell'esercito italiano in Istria Dalmazia e Montenegro e Montenegro la circolare 3C del generale Roatta no del generale Robotti scusate quella con su scritto qui non si ammazza abbastanza oppure se vogliamo gli ordini di Roatta in cui si diceva in cui si diceva che le rappresaglie nei Balcani dovevano essere compiute secondo il criterio non del dente perdente ma del testa perdente eh vogliamo ricordarci quello che ha fatto Graziani prima in Libia e poi in Abissinia vogliamo ricordarci un attimo di quello che ha combinato Gentaglia come Roatta Robotti Pirzio Biroli Bastianini su ordine del duce in Istria Slovenia e Dalmazia non abbiamo sganciato bombe su nessuno a Malta non sarebbero molto d'accordo diciamoci la verità a Barcellona sono d'accordo ancora di meno su queste cose ma ahimè l'Italia non ha scheletri dell'armadio l'Italia non ha bombardato nessuno la coscienza dell'Italia è pulita la coscienza dell'Italia è pulita semplicemente perché la polvere è finita sotto il tappeto invece di essere spazzata via caro onorevole Di Stefano mi faccia un sacrosanto piacere faccia un sacrosanto piacere a se stesso e al nostro paese si legga questo libro non è neanche tra i migliori sull'argomento però ha il pregio il il professore Alberto Stramaccioni ha avuto il pregio di scrivere un'opera agile comprensibile chiara e documentatissima sugli scheletri nell'armadio dell'Italia noi non abbiamo scheletri nell'armadio noi non abbiamo bombardato nessuno noi non abbiamo fatto niente noi siamo candidi come gigli credo che la mia faccia e l'esposizione di questo libro del titolo e della copertina di questo libro siano sufficienti a far capire all'onorevole Di Stefano che cosa deve fare perdere un po' di tempo a leggere perché sinceramente io da italiano mi sono un pochettino stancato per usare un eufemismo e cerco di trattenermi dal dire parolacce ok mi sono un po' stancato dell'ignoranza spaventosa mostruosa e voluta della storia del nostro paese italiani brava gente un accidente italiani brava gente ne abbiamo fatte di tutti i colori e le abbiamo fatte anche molto sporche ma no noi non abbiamo scheletri nell'armadio e per favore non venite a rompermi le tasche con la storia che oh ma tu sei anti italiano no io sono fiero orgoglioso di essere italiano sono fiero di parlare in italiano sono fiero di quello che il nostro paese rappresenta nel mondo della cultura italiana Leonardo Raffaello che tra l'altro è anche nato dalle mie parti Piero della Francesca Tanti Alighieri Manzoni Pirandello omo Pirandello era fascista sì è vero ma Pirandello era un genio Montale Croce Quasimodo rappresentano quello che è l'Italia la cultura la storia italiana ma ma un paese degno di questo nome una nazione un popolo degni di questo nome di uomini degni di questo nome ammettono anche le proprie colpe passate ammettono anche le proprie responsabilità passate ed è questo che questo paese di rimbecilliti chiamiamolo col suo nome non è in grado di fare ammettere e riconoscere gli errori del passato ammettere che ci sono stati e che ci sono tuttora scheletri nell'armadio di questo paese non è una vergogna ammetterlo abbiamo fatto degli errori cercheremo di rimediarli invece che cosa si dice noi no noi non abbiamo mai fatto errori noi non abbiamo nulla da nascondere noi siamo innocenti di tutto questo viene fuori questa stronzata dell'autoassoluzione del non assumersi le proprie responsabilità come popolo come nazione come stato ci dimostra semplicemente che siamo dei mentecatti ma dei grossi mentecatti allora io non ho titoli accademici per parlare lo sapete bene sono un'autodidatta verissimo sono un ignorante ancora più vero ma proprio perché sono un ignorante quando parlo di certe cose per passione per pure ed esclusiva passione cerco di essere documentato cerco di documentarmi cerco di parlare di cose che so cerco di sapere più cose possibili sugli argomenti di cui tratto c'è possibile che un sottosegretario del governo italiano il vice ministro degli esteri Maglio Di Stefano si permetta di dire una cazzata simile come quella del fatto che l'Italia non ha mai bombardato nessuno o che non abbiamo scheletri nell'armadio la buona fede del sottosegretario Di Stefano è evidente è evidente perché nessuno potrebbe dire una cavolata simile è evidente ma è lo specchio tragico e desolante della incapacità tutta italiana di guardare quello che è stato il nostro passato di guardare la nostra storia noi siamo candidi come Gigli italiani brava gente leggetelo procuratevelo e leggetevelo altro che italiani brava gente ammettere le proprie responsabilità ammettere di avere avuto delle colpe invece no continuiamo a cullarci nell'illusione di essere candidi e innocenti e non lo siamo mai stati amo agli americani cattivi amo ai tedeschi cattivi in realtà siamo sinceri gli scheletri nell'armadio l'Italia ne ha tanti ne ha tantissimi ne ha anche troppi ed è un vizio tutto italiano quello di tenerseli ben stretti gli scheletri nell'armadio l'Italia non è mai non ha mai 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 voluto fare i conti con le proprie responsabilità e il post triste triste e agghiacciante del sottosegretario di Stefano ne è l'ultimo e clamoroso esempio tutto qua insomma cari signori spero che abbiate capito quello che voglio dire e niente insomma cioè qui qui altro che andare in bestia signori altro che altro che andare in bestia cioè qui c'è veramente qui c'è veramente la dimostrazione di quanto questo paese sia prigioniero di una voluta miseria mentale e culturale che ci annichilirà poco da dire poco da fare signori cazzo vi posso dire tutto qua quindi ripeto un popolo che non è in grado di assumersi le proprie responsabilità un popolo che non vuole conoscere quali sono stati i lati oscuri della propria storia un popolo che si rifiuta e ripeto sottolineo si rifiuta di non voler conoscere quali sono state le proprie colpe nel corso della storia beh lasciamocelo perdere quel popolo è destinato a fare una ben misera fine tutto qua quindi cari signori io vi ringrazio come sempre per l'attenzione reitero a voi e soprattutto all'onorevole Maglio Di Stefano di leggervi questo libro di Alberto Stramaccioni ok che è uno insomma è un buon libro che spiega tante cose che fa capire tante cose e che soprattutto tira fuori gli scheletri nell'armadio che secondo certa gente sono inesistenti e che soprattutto il il come dire il mito degli italiani brava gente è soltanto un mito è soltanto una leggenda è soltanto una storiella purtroppo pensateci bene quindi cari signori ripeto procuratevi questo e leggetelo ragionate un po' su quello che ho detto e soprattutto onorevole Di Stefano se lei se in un qualche modo le mie parole vi arriveranno io le chiedo soltanto una cosa io posso capire la sua ignoranza non è certo il solo non sapere le cose ma nella sua funzione di membro del governo di questo paese nella sua funzione di rappresentante delle istituzioni di questo paese pensare un attimo a quello che si dice prima di aprire bocca e soprattutto e soprattutto e soprattutto evitare di tappare i buchi con altre cavolate no 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 signori 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 ricordatevi questo semplicemente per rivestire delle cariche istituzionali come le vostre occorre semplicemente occorrerebbe avere un minimo di dignità e soprattutto avere il coraggio di tenere la bocca chiusa quando non si sanno le cose ma per informarsi non è mai tardi tutto qua insomma signori che vi posso dire speriamo che sia servita qualcosa dovevo sfogarmi abbiate pazienza tutto lì niente vi ringrazio per l'attenzione come sempre come sempre commentate come sempre arrivederci al mio prossimo video e come sempre ciao